Mario Monti si sta dirigendo al Quirinale, ha lasciato poco fa il suo studio a Palazzo Giustiniani, il suo studio, un nuovo studio da Senatore Avita, sta dirigendosi verso il Quirinale appunto per ricevere dal Presidente Napolitano l'incarico di formare il governo. Berlusconi invece per l'ultima volta ha varcato mezz'ora fa il portone di Palazzo Chigi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.